Abbiamo davanti alla videocamera un giovane proveniente da Marcenisi, in occasione appunto il Memorial Don Luigi Marchetta. Che cosa ci dice questo giovane che è diventato ormai a cittadinanza italiana? Buongiorno a tutti, prima di tutto vorrei ringraziare a tutti gli organizzatori di questa gara, che davvero è una bellissima gara oggi, che mi è piaciuta tanto. Fanno un tratto che era distezzato, comunque si può fare. E oggi è andata bene, dietro i filali, terzo posto, pure ottima posizione. Spero di migliorarmi in futuro. Come età? 20 anni. Il nome e cognome? Elgebria Ajejo. Grazie a tutti i paesi che è per la Camarcenisi. Quindi ecco, partecipi come sport, da quando lo pratichi? Da quando ti sei innamorato di questo sport? Sono tre anni che ho iniziato a correre. E beh, già la posizione di oggi sei stato? Terzo. Terzo è una buona posizione. E le prove giù? Hai lo spazio per fare allenamento? Sì, sì, mi alleno su un campo sportivo a Macerata, con gli amici, con la prima donna a fare una muovia e con altri atleti che sono bravi. Mi alleno insieme a loro. Beh, dovresti scegliere più che un campo un percorso naturale, sarebbe la cosa migliore, no? No, in futuro sto pensando di andare a Marocco, di allenarmi in natura, di stare due mesi poi... Ah, ecco, non abbandonate, però ci sono noi che abbiamo, l'hai visto da te stesso che c'è il parco, abbiamo qua un percorso naturale, sarebbe ottimo fare una scappatina ogni tanto con ovviamente la società sportiva, venire a fare le prove qua. Sì, però qua è un bellissimo percorso, è qua sul lungomale, si può fare qualcosa, però ho scelto di fare un allenamento, c'è il completo... Secondo Raul Umbani, Roma Atletica, se c'è... Poi spero che entra bene. Sì, sì, e solo tu nella società come straniero? Ci siamo tre come assoluti, poi abbiamo altri ragazzi dall'età cinque fino a dieci anni. Insomma la società ti ha accolto con piacere, che essendo appunto di origine albanese, quindi... Marocchina. Marocchina, quindi sei soddisfatto anche tu, no? Sì, sono soddisfattissimo. Perché anche perché dai soddisfazione alla società? Sì, come? Contraccambi dando prova dalle tue capacità? Sì, poi faccio altro che alleno i bambini, della società... Bene, vedi, sei di grande aiuto... Sì, alla società. Alla società, è vero, è vero. Non tutti siete accolti con piacere, però dimostratelo con coraggio, con volontà, determinazione, dimostrate che anche voi potete dare qualcosa, non solo avere, ma anche dare. Sì, è vero, non solo avere, non solo correre, ma altre di aiutare la società, esempio, allunare i bambini. Mettersi a disposizione. Bene, grazie, buon ritorno e ci vediamo il prossimo anno. Grazie, grazie. Buone cose. Ciao.